Allora ragazzi, affrontiamo il discorso del participio latino che voi trovate, adesso ve lo dico, sempre al capitolo 7 del vostro libro, a pagina 109. Come al solito il vostro fantastico griffa cerca di semplificare, ma in realtà semplifica fino a un certo punto. Quindi cercate di seguire bene questa lezione e di prendere appunti, soprattutto perché non è un argomento semplicissimo. Questo perché il participio latino si può tradurre in svariati modi, ok? Allora, innanzitutto riepiloghiamo un attimino che cos'è il participio in italiano e come si usa. Allora, in italiano noi abbiamo due tipi di participi, il participio presente e il participio passato. Il participio presente, per esempio del verbo amare, amante, come vedete si costruisce sempre con l'aggiunta del suffisso nt. Amante, participio presente di amare, pulente, participio presente di pulire, convolgente, participio presente di coinvolgere, ok? Allora, come si usa il participio presente? Beh, si usa spesso o come nome, amante, vedete, molto spesso viene utilizzato proprio come sostantivo, no? L'amante, ok? Noi lo usiamo come nome anche se anticamente si tratta di un verbo, di fatto. Pulente, noi lo usiamo come aggettivo prevalentemente, come attributo, no? Quindi, non lo so, una sostanza pulente, ok? Coinvolgente, anche questo viene usato principalmente come aggettivo, no? Quindi uno spettacolo coinvolgente. Allora, non tutti i verbi hanno il participio presente, o meglio, ce lo avrebbero. Semplicemente che è caduto in disuso, ok? Quindi, per esempio, se prendiamo il verbo chiudere, sì, avrebbe, no? Teoricamente il suo participio presente, chiudente, però non essendo più utilizzato, di fatto, in italiano non esiste, ok? Quindi abbiamo detto il participio presente, usato prevalentemente come nome o come attributo, come aggettivo. Vediamo poi il participio passato. Il participio passato del verbo amare, amato. Il participio passato del verbo pulire, pulito. Il participio passato del verbo coinvolgere, coinvolto. Ecco, il participio passato del verbo chiudere, chiuso. Quindi invece in questo caso noi ce l'abbiamo. Il participio passato è sicuramente più frequente, perché se ci pensate, viene usato per tutti i tempi composti. Ho amato all'attivo, sono amato al passivo. Ho pulito all'attivo, sono o vengo pulito al passivo. Ho coinvolto all'attivo, sono coinvolto al passivo. Ho chiuso attivo, sono chiuso passivo. Quindi per questo praticamente tutti i verbi hanno il loro participio passato, ok? Si costruisce con il suffisso to, t, ok? Vedete che c'è in tutti questi verbi, ok? Ci siamo? Si usa anche molto spesso, non solo come verbo per fare i tempi composti, si usa anche come aggettivo, se ci pensate. Se io vi dico la porta è chiusa, di fatto in quel caso io sto costruendo un predicato nominale e uso il participio più che con la sua solita funzione di verbo come un vero e proprio aggettivo. Per esempio si vede bene anche con pulito, no? Il pavimento è pulito, è di fatto un predicato nominale, lo scriviamo, eh? Il pavimento è pulito, io uso il participio passato come se fosse un aggettivo. Diverso è se io dico il pavimento è pulito da Arturo. Qua ho fatto il complemento di agente, quindi in realtà questo non è un predicato nominale ma è un vero e proprio predicato verbale passivo, ok? Quindi queste sono piccole sfumature che ci fanno capire come in realtà il participio già in italiano possa essere usato in tanti modi, come verbo, come aggettivo, come nome, eccetera, eccetera. In latino la questione si complica, nel senso che questi tre usi del participio ci sono anche in latino in maniera molto più frequente. Allora, innanzitutto perché dico che è più complesso? Perché il latino oltre al participio presente e al participio perfetto ha anche il participio futuro. Allora, vediamo i suffissi. Sufisso del presente, nt, esattamente vedete come l'italiano, quindi il participio presente del verbo amo sarà amans, amantis, ok? Amans al nominativo, amantis al genitivo. Vedete una cosa, vedete subito che pur essendo un verbo si declina come se fosse un nome. Amans, amantis, secondo voi a quale declinazione apparterrà? Beh, appartiene chiaramente alla terza declinazione. Se il genitivo fa inis è la terza declinazione, no? Amans, amantis, amanti, amantem, malaccusativo. L'ablativo può fare ini o ine esattamente come avviene nella terza declinazione. Diciamo che quando è in i generalmente ha valore di aggettivo, quando è in e generalmente ha valore verbale. Comunque queste sono finezze, ok? Non c'è bisogno che ve lo ricordiate. In ogni caso sappiate che si declina come un nome della terza. Poi, participio perfetto come in italiano, quindi finora siamo sul semplice, ha il sufisso t, ok? Sufisso t, sottolineiamo anche questo, aspettate. Sufisso t, e poi ha le desinenze amatus, amata, amatum, che sono della prima declinazione, vedete, quando è femminile, e della seconda quando è maschile oppure neutro, come gli aggettivi di prima classe. Se avete ascoltato la registrazione sull'aggettivo dovreste essere abbastanza ferrati su queste cose. Passiamo a quello futuro. Futuro, il sufisso è urus, e ce lo ricordiamo facilmente perché futuro, o meglio, futurus, è il participio futuro del verbo sum, quindi del verbo essere, ok? Infatti, il futuro, letteralmente, sono le cose che saranno, le cose che avverranno. Quindi ce lo ricordiamo proprio dalla parola futuro, e il participio futuro è quello che ha questo suffisso, ok? Anzi, così, togliamo la s, che quella è la desinenza. Amaturus, per il maschile, amatura, per il femminile, amaturum, per il neutro. Allora, il futuro, il participio futuro, ha tante sfumature di significato. Non indica solo un'azione che si deve ancora svolgere, un'azione che deve avvenire. Può indicare anche, quindi abbiamo detto, azione futura, ma anche un'azione imminente. Quindi, per esempio, in questo caso, che sta per amare, ok? Oppure un'azione desiderata, ok? Che vuole amare, che ha la volontà di amare. Quindi, comunque, un'azione che si deve ancora svolgere, ma con delle sfumature un po' diverse, ok? Allora, vediamo i modi per tradurlo. Come nell'italiano, dicevamo, il participio può avere valore nominale o di sostantivo, ok? Quindi di nome, valore attributivo o di aggettivo, molto semplicemente, e valore di verbo, quindi di, quindi appunto di subordinata. Allora, partiamo dal valore nominale. Prendiamo il nostro solito verbo laudo, lodare. Laudans, vedete con questo, questo suffisso che è tipico del presente. Allora, come faccio a tradurlo tenendo conto che ha valore di nome? Laudans, sarebbe illodante, no? Se io volessi tradurlo come un sostantivo, come un nome. Qual è un modo per poter tradurre illodante? Colui che loda, no? O la persona che loda. Questo è al presente, chiaramente. Se io vado al passato, devo tradurlo al passato. La persona che, o colui che, attenzione, che il participio perfetto latino ha sempre valore passivo, ok? Sempre. Quindi, laudatus, colui che, la persona che, è stata o fu lodata, ok? Il lodato, sarebbe, no? In italiano. Quindi, illodante, la persona che loda. Illodato, la persona che è stata lodata. O col futuro dovete tener conto di tutte queste sfumature qua. O colui che loderà, la persona che loderà. Oppure colui che vuole lodare, ha intenzione di lodare. O per l'accezione dell'imminenza, colui che sta per lodare, no? Sta per fare qualche cosa. In generale, per ora, traducetelo semplicemente col futuro. Poi queste sfumature le vedremo meglio più avanti quando faremo la periflastica attiva. Comunque, non poniamoci il problema. Ok? Quindi, valore nominale. Poi, valore attributivo. Quindi, di aggettivo. Ok? Chiaramente, per essere un aggettivo deve avere un sostantivo di fianco, no? L'aggettivo è quello che si accompagna, che dà la qualità a un nome. In questo caso io ho messo homo, homo laudans, l'uomo lodante, no? L'uomo, aggettivo, lodante. Qual è un buon modo per tradurlo? Guai a voi se me lo traducete l'uomo lodante, ok? Perché veramente non si può sentire. Quindi, homo laudans, un uomo che loda. Ecco, questo è un modo per tradurlo, mettendo la relativa. Un uomo che loda. Homo laudatus, abbiamo detto al passato e tra l'altro al passivo, sarebbe l'uomo lodato. Sì, potete tradurlo anche così. Un uomo lodato, in italiano ci sta, oppure un uomo che è stato lodato. Homo laudaturus, un uomo che loderà, che vuole lodare o che sta comunque per lodare. D'accordo? Quindi con la relativa noi possiamo tradurre la funzione attributiva, ok? Poi abbiamo il valore verbale. Allora, il valore verbale è quello un pochino più difficile. Cosa vuol dire valore verbale? Vuol dire che all'interno della frase il participio serve a introdurre, a costruire una subordinata che può essere una causale, quindi introdotta da poiché, una temporale, quindi introdotta da mentre, quando, ok? Eccetera, eccetera. Allora, in un primo momento, per semplicità, traducetelo semplicemente con il gerundio italiano, ok? Laudans, lodando, laudatus, passato, non solo passato, ma anche passivo, quindi essendo stato lodato, ok? Laudaturus, volendo lodare, stando per lodare, ok? Vediamo se avete sul vostro libro degli esempi, sto guardando, di valore verbale. Sì, per esempio, allora, andate alla pagina 109, dove dice traduzione dei participi futuri e perfetti, ok? Ci siete? Dove dice concordati con il soggetto, si rendono con la circonlocuzione stando per, ecco, guardate questa frase, romani pugnaturi, enses destringebant, i romani, stando per entrare in combattimento, impugnavano le spade, quindi la principale è romani, enses destringebant, i romani impugnavano le spade, e questo pugnaturi, che è il participio, introduce una subordinata che in questo caso ha valore temporale, quindi avrei potuto anche tradurlo, i romani, quando, mentre stavano per entrare in combattimento, impugnavano le spade, ok? Allora, ascoltate bene questo video, prendete appunti, fate bene gli esercizi perché, perché sì, perché non è evidente individuare la funzione che ha il participio all'interno del testo latino, perché solo l'attributivo è semplice da riconoscere, perché concordandosi con un nome, noi generalmente lo individuiamo, ma gli altri due valori sono un pochino più difficili da individuare, ok? Ciao, ciao!